e produce il software Alplan. Siamo in collegamento con Massimo Cavagna. Buon pomeriggio Massimo. Buon pomeriggio, buongiorno a tutti. A portarmi fuori il mio elemento, va bene questo tipo di sezione, lo porto fuori, andiamo a vedere che cosa è successo nel plan, vedete che praticamente mi sto ricostruendo piano piano il mio rilievo. ...per la ricostruzione dei vani interni? Allora, come vi dicevo, è un po' un approccio. Allora, in realtà voi avete...